Le dimore storiche, private e i luoghi identitari quotidiani di Palese aprono le porte alla cultura. È l'idea che vince già da diversi anni e porta alla firma dell'architetto Eugenio Lombardi, presidente dell'Associazione Ecomuseo Urbano del Nord Barese. Presentato questa mattina nella sala giunta Palazzo di Città, la sesta edizione del Festival Ecomuseale delle Arti, iniziative che si svolgeranno dal 7 luglio al 7 settembre nel territorio del quinto municipio. L'intenso programma estivo del Festival rientra nelle 250 attività previste dalla misura rete civica urbana. Sono 12 in tutto le reti costituite che mirano a promuovere gli spazi pubblici, specie quelli periferici, valorizzando l'identità cittadina attraverso la cooperazione. Stiamo provocando questo territorio, stiamo chiedendo alla popolazione e alla terra che noi stiamo vivendo quotidianamente di reagire, reagire grazie alla bellezza che questi luoghi hanno, una bellezza intrinseca profonda, il nostro mare si affaccia sul nord ed estate è una cosa straordinaria alzarsi al mattino e respirare gli umori, i sentori, i colori dell'alba e al tramonto ricordarsi che c'è qualcos'altro di splendido. Allora è questo che stiamo cercando di fare, grazie alle arti collegate fra loro, l'interazione che c'è sempre stata nei grandi movimenti artistici dell'Ottocento e del Novecento, dove un poeta non era mai solo poeta ma era anche pittore, il pittore riconosceva l'importanza della letteratura, la letteratura si affidava alla musica per trasmettere i suoi messaggi, è quello che proveremo a fare in queste nuove serate. Nuove in tutto gli appuntamenti in un percorso culturale che attraversa le arti, dal teatro alla musica classica, dall'operetta alla pittura e alle installazioni, dal cinema alla poesia italiana e dialettale, dalla letteratura ai burattini. L'appuntamento più significativo di questi nuovi appuntamenti? Mi permette di dire tutti e nove. Intanto cominciamo con la scena teatrale di Antonio Minnelli, la conquista del Sud, molto in linea con quanto sta accadendo nella nostra Italia del Sud specialmente, ma ci saranno momenti di grande musica, quali quello dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana, che ha aderito al nostro invito e ci sarà il 12 luglio sempre a Vidalongo De Bellis. Il 27 luglio avremo un prestigiosissimo pianista, Antonio Breschi, di musica celtica e flamenca, giungerà apposta dall'Irlanda per noi. Nel corso dell'estate avremo momenti molto pubblici, quali il 14 agosto su Lungomare Massaro, con musica un po' più leggera, dedicata alle canzoni di Pino Daniele. Però c'è un momento particolare, quello della chiusura, il 7 settembre alla luce dell'est. Ci ritroveremo al porticciolo di Palesi ancora, guardando, mirando al sole che sorge, con le rappresentanze delle religioni monoteiste, lettura di poesie. Annunceremo i vincitori del concorso letterario nazionale Veggina Bonasforza e ascolteremo musica, musica per arpa e percussioni. Grazie a tutti.